Dei veri geni del falso Made in Italy, un brand che ha permesso loro di raccogliere circa 19.000 euro nelle proprie tasche e 10.000 loghi contraffatti grazie alle dirette Facebook con le quali promuovevano finte collezioni di alta moda raggiungendo un pubblico di oltre centinaia di utenti. E queste collezioni venivano create in un laboratorio totalmente abusivo che si stendeva in tre appartamenti. I primi due nella zona di Pio Sasco in provincia di Torino, sede dell'industria del vestiario e un terzo nella zona nord della metropolitana, dove venivano conservati i giubbotti, pantaloni e felpe ingannevolmente firmate dalle più grandi case dell'Haute Couture. I tre sono stati smascherati dalla Guardia di Finanza durante una vasta operazione finalizzata al contrasto di materiali illeciti. Cliché, macchine da cucire e termopresso, oltre a tutti i capi rinvenuti pronti per la vendita di Natale, è ciò che hanno sequestrato gli agenti della cosiddetta fabbrica del falso, utilizzata anche come deposito abusivo di capi semilavorati e già confezionati illegalmente per essere spediti, di cui la gestione era affidata da una cittadina di origine extracomunitaria. L'ultimo video promozionale è stato interrotto proprio grazie all'eruzione delle fiamme gialle, che hanno messo immediatamente sotto chiave il materiale presente nell'abitazione. Difficile da trovare invece il bottino dei quattro truffatori, abilmente occultato nei tre alloggi, che racchiudeva l'intero ricavato dal loro shopping fasullo. I responsabili sono stati poi sottoposti alla locale autorità giudiziaria per i reati di introduzione e rivendita nel territorio dello Stato di indumenti riportati, loghi e marchi contraffatti.